Prima puntata della serie dedicata al pensiero di Michel Foucault, come al solito la sua biografia che intitolo Una vita furiosa, usando questo aggettivo in riferimento all'Orlando furioso perché Urlando si infuriò in quanto Angelica, la bellissima Angelica, gli preferì Medoro, un soldatino e quindi lui, vedremo poi il collegamento biografico, ma anche in riferimento furioso in riferimento agli eroici furori di Giordano Bruno, quest'opera in cui Bruno prospetta un cammino di formazione filosofica che passa attraverso l'esperienza di eccessi opposti. Bene, iniziamo. Paul Michel Foucault nacque nel 1926 a Poitiers, città della Francia centro-occidentale, nei dintorni della quale in passato si erano combattute ben tre battaglie storiche, nel 507, nel 732, nel 1356, naturalmente dopo Cristo, di cui la più nota è la seconda, quella del 732, nella quale Carlo Martello sconfisse un esercito arabo. Quindi Poitiers è una città con una forte qualità simbolica per i francesi, per la nazione francese. Il padre di Foucault, Paul, era un chirurgo e professore di anatomia, figlio a sua volta di un chirurgo. La madre, Anne Malapère, anche la figlia di un chirurgo, era casalinga e si occupò attivamente dell'educazione dei tre figli, di cui Michel era il secondo. Mi viene in mente che Nietzsche veniva da una dinastia di pastori luterani, sia da parte di madre sia da parte di padre, e Foucault invece da una dinastia paterna e materna di chirurghi. Foucault svolse gli studi primari dapprima nella scuola statale, sentendosi subito attratto dalla storia. Eccellente in francese, storia greco e latino, conseguiva invece pessimi voti in matematica e scienze. Al terzo anno delle medie, almeno corrispettive delle nostre medie, ebbe un crollo. Nel 1940, infatti, dopo la conquista tedesca di Parigi, molte famiglie parigine si erano rifugiate a Poitiers. Foucault si trovò così con compagni di scuola più bravi di lui e non sopportò di perdere il suo status di primo della classe. Ecco, forse capite già il riferimento all'Orlando Furioso. Per evitare che fosse bocciato, sua madre lo ritirò dalla scuola statale e lo trasferì al Collège Saint Stanislas de Poitiers, una scuola cattolica, dove Foucault si riprese e tornò a eccellere, anche grazie alle ripetizioni private che gli impartì uno studente universitario di filosofia che, tra l'altro, gli fece conoscere il pensiero di Kant. Conseguito il baccalaureato, scontrandosi con il padre che desiderava che il figlio si iscrivesse a medicina e diventasse medico come lui, e avvalendosi invece del sostegno della madre, nel 1943 Foucault si iscrisse alle classi preparatorie letterarie del liceo Enrico IV di Poitiers. Quindi, dati i rapporti conflittuali con il padre, una volta maggiorenne, Foucault avrebbe rinunciato al nome Paul, si chiamava Paul Michel, invece rinuncia al nome Paul mantenendo solo quello di Michel. Durante i primi anni liceali, Foucault sviluppò la sua passione per il pensiero filosofico diventando l'interlocutore privilegiato del suo docente di filosofia. Egli dedicava tutto il suo tempo allo studio, trascurando le relazioni con i suoi compagni e i divertimenti. Cito. La concorrenzialità, la competizione, fare più dell'altro, essere il primo. Uno come me l'ha sempre vissuto di dentro. Avrebbe in seguito scritto di se stesso, fine appunto della citazione. Eppure, nonostante la sua dedizione allo studio, nel 1945 non riuscì a superare l'esame scritto di ammissione all'Ecole Normale Superiore di Parigi. Non di meno, grazie all'aiuto economico della madre, riuscì poi a ottenere l'ammissione al liceo Enrico IV di Parigi, per l'anno scolastico 1945-46. I suoi compagni lo consideravano, sono testimonianze riportate, un ragazzo selvaggio, enigmatico, chiuso in se stesso. Mentre Jean Hippolyte, suo docente di filosofia, esperto di filosofia hegeliana, rimase colpito dalla sua brillante intelligenza. A sua volta Foucault fu affascinato da Hippolyte, di cui vent'anni dopo avrebbe affermato «gli devo tutto». Finalmente, dopo un anno di studio più intenso che mai, nel 1946 Foucault superò il concorso di ammissione all'Ecole Normale Superiore, classificandosi al quarto posto. Tuttavia, nella nuova scuola i suoi problemi relazionali peggiorarono. Il suo docente, Didier et Ribon, lo descrisse così. Litiga con tutti, si arrabbia, mostra in tutte le direzioni un'aggressività formidabile che si aggiunge a una tendenza abbastanza marcata alla megalomania. A Foucault piace mettere in mostra il genio che sa di portare dentro di sé, tanto che molto presto fu odiato quasi all'unanimità. Si dice che sia mezzo matto. Fine della citazione. In effetti, Foucault soffriva di una sindrome maniaco-depressiva, tanto che giunse a inseguire un compagno brandendo un coltello e a tentare il suicidio tagliandosi il petto con un rasoio. In seguito a quest'episodio venne ricoverato in ospedale. Lo psichiatra che lo prese in cura imputò la sua ossessione suicida all'incapacità di accettare la sua omosessualità. Foucault effettivamente era omosessuale e frequentava locali gay, ma poi veniva sopraffatto dalla vergogna e dal senso di colpa. In seguito egli avrebbe dichiarato, a proposito della sua omosessualità, che, cito, è un problema sconvolgente quando la scopri da solo. Molto presto si è trasformata in una specie di minaccia psichiatrica. Se non sei come tutti gli altri è perché sei anormale. Se sei anormale è perché sei malato. Non di meno, nel periodo di studi all'école normale superiore, avendo oltretutto deciso di terminarla in tre anni, anziché nei normali quattro, Foucault divenne un divoratore di testi sia filosofici sia letterari, lesse in particolare le opere di Platone, Kant, Hegel, Bachelard, Max, Freud, Nietzsche e Heidegger, e i romanzi di Kafka, Faulkner e Genet, avendo già letto negli anni precedenti i romanzi di Balzac, Stendhal, Gide. Contemporaneamente si appassionò anche alla psicologia, leggendo nei testi più recenti. Tra i corsi da lui seguiti all'école normale superiore lo segnarono profondamente quelli sul linguaggio e sulle scienze umane tenuti dal fenomenologo Maurice Merleau-Ponty e soprattutto quello di scienze sociali condotto dal marxista Louis Althusser, con il quale allacciò una profonda e duratura amicizia. A proposito del suo rapporto amicale con Foucault, Althusser dichiarò che erano accomunati dal fatto di essere entrambi, parole sue, assediati dalla follia. Nel 1948 Foucault si laureò in filosofia alla Sorbona e l'anno successivo anche in psicologia. Nel 1950, incalzato da Althusser, si iscrisse al Partito Comunista francese. Nello stesso anno venne respinto al concorso per ottenere la docenza in filosofia, perché la sua risposta all'esame orale fu giudicata e erudita, ma poco pertinente. Foucault tentò nuovamente di suicidarsi, ma poi si riprese in fretta e nel 1951 a affrontò di nuovo il concorso per la docenza. E questa volta lo superò, classificandosi addirittura al secondo posto, ma comunque infuriandosi per non essersi classificato primo e contestando la commissione d'esame per averlo interrogato sul tema della sessualità. Anche grazie all'interessamento di Althusser, dal 1951 al 1955, Foucault esercitò la docenza in psicologia all'école normale superiore, impressionando per la sua eloquenza i suoi studenti, tra i quali il futuro storico dell'antichità Paul Veyn e il futuro filosofo Jacques Derrida. Allo stesso tempo, Foucault lavorò come psicologo sperimentale in un centro di custodia cautelare e come psicologo tirocinante all'ospedale Saint-Anne. Nel 1952 si laureò in psicologia patologica e tradusse il sogno e l'esistenza di Ludwig Binswanger, assorbendone l'approccio esistenzialistico alla psichiatria. Nel 1953, venuto a conoscenza delle storture del sistema sovietico, uscì dal Partito Comunista Francese, e in quello stesso anno e nel seguente insegnò psicologia e ha anche all'Università di Lille. Nel 1954 fu stagista nella clinica di Münsterlingen in Svizzera, diretta da Roland Kuhn, facendo proprie la teoria e la pratica della psichiatria fenomenologica. Sempre nello stesso anno pubblicò, su richiesta di Althusser, il suo primo libro, La malattia mentale e la personalità, che in seguito però disconoscerà. Negli anni successivi, rinunciando alla carriera universitaria in Francia, Foucault accettò un incarico di consulente culturale offertogli dall'Università di Uppsala, in Svezia, grazie all'interessamento dell'antropologo e storico delle religioni Georges Dumézil, suo amico e mentore. Dopo un breve ritorno a Parigi nel 1958, a causa della crisi istituzionale francese che riportò al potere il generale Charles de Gaulle e segnò il passaggio alla Quinta Repubblica, Foucault si trasferì come direttore del Centro per la Civiltà Francese a Varsavia, presso la cui università tenne alcune conferenze. Nel 1959 il regime comunista polacco di Vlasislav Gomulka lo espulse dalla Polonia. Foucault assunse allora l'incarico di direttore dell'Istituto Francese di Hamburgo, nella Repubblica Federale Tedesca, per la cui università tenne un corso di letteratura francese. Finalmente nel 1960 Foucault tornò in Francia per assumere la docenza di filosofia all'Università di Clermont-Ferrand, dove conobbe in quanto suo collega Michel Serret e soprattutto incontrò lo studente futuro sociologo Daniel Deferre che sarebbe stato suo compagno fino alla sua morte. Nel 1961 ottenne il dottorato in filosofia alla Sorbonne discutendo due tesi. L'antropologia dal punto di vista pragmatico di Kant, avendo come relatore Jean Hippolyte e Follia e irragionevolezza, storia della follia in età classica, di cui furono relatori l'epistemologo Georges Canguilhem e lo psichiatra Daniel Lagache, tesi questa che fu pubblicata in quello stesso anno e poi riedita nel 1964 e ancora nel 1972. La sua ricerca proseguì allargandosi al campo della epistemologia e della medicina e sfociò nell'opera Nascita della clinica, un'archeologia dello sguardo medico, terminata alla fine del 1961 ma pubblicata nel 1964. Tuttavia nel 1963 Foucault aveva pubblicato anche Raymond Roussel, una biografia interpretativa dell'omonimo poeta francese nato nel 1877 e morto nel 1933, la cui opera era stata scoperta e fatta pubblicare dallo stesso Foucault già nel 1957. Sempre nel 1963 Foucault entrò insieme al semiologo strutturalista Roland Barthes e al poeta Michel Degu nel comitato di redazione della rivista Critique, diretta dallo scrittore Jean Peel che aveva sostituito Georges Bataille morto l'anno prima. Non di meno due anni più tardi Foucault abbandonò di nuovo Parigi e andò a insegnare all'università di Tunisi per rimanere vicino al compagno Daniel Defoe, mandato in Tunisia a svolgere il servizio militare. Sempre nel 1965 fu nominato membro di una commissione per la riforma delle università francesi e si ventilò fosse candidato alla carica di vice direttore dell'istruzione superiore. Tuttavia non fu insegnato di questa carica in seguito agli esiti di un'inchiesta sulla sua vita privata. Nel febbraio 1966 Foucault, insieme a Gilles Deleuze, curò la pubblicazione francese delle opere complete di Nietzsche per l'editore Gallimard. Nello stesso anno pubblicò Le parole e le cose, opera nella quale introdusse il tema della morte dell'uomo e che riscosse un grande successo e lo rese famoso. Sono gli anni in cui in Francia veniva alla ribalta allo strutturalismo e Foucault fu così affiancato a Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, Barthes, ovvero fu inserito nella nouvelle vague dei filosofi emergenti che si contrapponevano a Sartre e al suo esistenzialismo umanistico. Di certo Foucault partecipò e contribuì con i suoi interventi ai famosi seminari settimanali condotti da Lacan. Nel 1967, dopo lo scoppio e lo svolgimento della guerra dei sei giorni, nel corso della quale Israele sconfisse Egitto, Siria e Giordania, Foucault rimase negativamente impressionato dall'antisemitismo delle manifestazioni filopalestinesi degli studenti tunisini. Egli visse poi la rivolta studentesca del maggio 1968 a Parigi soltanto per un breve soggiorno, mentre vi fu coinvolto a lungo e intensamente a Tunisi, a tal punto da subire la repressione poliziesca e da essere indotto a tornare in Francia. Così dal dicembre del 68 cominciò a insegnare al centro universitario sperimentale di Vincennes, appena istituito dal ministero dell'istruzione francese con l'obiettivo di venire incontro alle richieste di cambiamento del movimento studentesco. Nel 1969 Foucault pubblicò l'archeologia del sapere, in cui espose il suo metodo di ricerca e analisi. Nel novembre di quello stesso anno fu eletto membro del Collège de France, il più prestigioso istituto francese di insegnamento e ricerca culturale. Appositamente per lui vi venne istituita una nuova cattedra, denominata Storia dei sistemi di pensiero. Foucault intitolò la sua lezione inaugurale L'ordine del discorso. Il suo testo, il testo di questa lezione, fu pubblicato nel 1971. In quello stesso anno Foucault si confrontò direttamente con il filosofo del linguaggio e cognitivista Noam Chomsky, in un dibattito tenutosi all'Ecole superiore des technologies di Eindhoven nei Paesi Bassi. Negli anni seguenti intensificò il suo impegno politico, collaborando in particolare con Gauche Proletarien, Sinistra Proletaria, organizzazione di estrema sinistra, di tendenza maoista, il cui giornale era diretto da Jean-Paul Sartre e che praticava azioni violente come pestaggi, sabotaggi e sequestri di persone. In particolare, in seguito all'arresto e alla detenzione carceraria di molti militanti di Gauche Proletarien, Foucault promosse la Costituzione... la Costituzione... scusate ma... ho saltato... scusate... promosse la Costituzione del gruppo... di informazione sulle prigioni, un'associazione avente il compito di denunciare pubblicamente le condizioni di vita dei carcerati, riuscendo a ottenere che i giornalisti fossero autorizzati a visitare le carceri. Nel 1972 Foucault fondò, insieme allo scrittore e militante Serge Livroset, che era stato incarcerato e poi rilasciato, il Comitato d'azione dei prigionieri, allo scopo di propagandare l'abolizione delle prigioni. Nello stesso anno pubblicò io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello, uno studio di un caso di follia criminale della sua gestione giudiziaria e penitenziaria, o meglio, nell'Ottocento e partecipò, insieme a Sartre, alle manifestazioni a favore dei diritti degli immigrati. Queste sue esperienze politiche furono una delle radici del libro Sorvegliare e punire, nascita della prigione, che Foucault pubblicò nel 1975. Nel 1977, mentre il Parlamento francese discuteva la riforma del codice penale, Foucault firmò, insieme ad Althusser e Derrida, una petizione che chiedeva di depenalizzare i rapporti sessuali consensuali tra adulti e minori. In quello stesso anno pubblicò Microfisica del potere, uno studio delle forme relazionali, personali e quotidiane del potere. Non di meno, nel corso degli anni 70, Foucault si recò spesso negli Stati Uniti, tenendo conferenze corsi all'Università di Buffalo, nello Stato di New York, e all'Università di Berkeley, in California. In quegli stessi anni progettò una grande opera intitolata Storia della sessualità e articolata in sei volumi e ne scrisse il primo, La volontà di sapere, edito nel 1976. A partire dalla fine degli anni 70, l'impegno politico di Foucault scemò e così anche la sua adesione al marxismo-leninismo, parallelamente all'emerge dei cosiddetti nouveau philosophes, una corrente filosofica di giovani intellettuali tra cui Bernard-Henri Lévy e André Glucksmann, che dopo essere stati militanti dell'estrema sinistra comunista, avevano ripudiato il marxismo-leninismo e consideravano il pensiero anti-autoritario di Foucault come un loro punto di riferimento. Nel 1978 e nel 1979 Foucault si recò in Iran e scrisse numerosi reportage sugli avvenimenti che innescarono la rivoluzione comunista sul suo svolgimento e sui sviluppi successivi. Nei suoi articoli Foucault espresse il suo entusiastico appoggio alla rivoluzione iraniana, tanto da essere accusato di sostenere il potere ierocratico dell'Ayatollah Khomeini, accusa dalla quale egli si difese affermando che aveva sostenuto la spiritualità politica, sue parole, la spiritualità politica degli insorti, mentre aveva denunciato, cito sempre, il governo sanguinario di un clero fondamentalista. Chiusa la citazione. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, Foucault si avvicinò alla cosiddetta seconda sinistra francese, una tendenza politica basata su una visione socialista che rigettava la dottrina marxista-leninista e l'esperienza politica comunista e valorizzava le forme associative di base e il nuovo sindacato Confédération française démocratique du travail, nato nel 1964. In questo senso Foucault sembrò rivalutare il pensiero liberale, in particolare per la sua istanza di una forma di governo meno statalistica e quindi meno limitativa delle libertà individuali. In questi anni Foucault tenne anche molte conferenze in Francia e all'estero, all'estero all'università di Berkeley sempre e all'università di Lovagno in Belgio. Nel 1984 pubblicò L'uso dei piaceri e la cura di sé, rispettivamente secondo e terzo volume dell'opera Storia della sessualità. Colpito dall'AIDS, Foucault fu ricoverato all'inizio del giugno del 1984 in un ospedale parigino, dove morì alla fine dello stesso mese. In ospedale ricevete molte visite, tra cui quella dell'attrice Isabelle Agiany, una sua grande amica. La vicenda della malattia della morte di Foucault è raccontata dallo scrittore Hervé Guibert nel romanzo all'amico che non mi ha salvato la vita. Nel 2018 furono pubblicati postumi Le Confessioni della Carne, quarto volume di Storia della sessualità, e i testi delle sue lezioni al Collège de France, i più significativi dei quali sono l'ermeneutica del soggetto pubblicato nel 2001, nascita della biopolitica, del governo dei viventi, soggettività e verità e infine il coraggio della verità, il governo di sé e degli altri. Trascrizione dell'ultimo corso di Foucault, quello del 1983-84, rimasto inconcluso a causa della malattia e della morte. Passiamo a una breve introduzione del suo pensiero. Ancora più della maggior parte dei filosofi, Foucault praticò la filosofia come una ricerca critica ininterrotta, rimessa continuamente in discussione, sempre nuova e insieme plurale, diversificata, polifonica, sfrangiata, aperta come fu, a temi e suggestioni molteplici, differenti e, almeno all'apparenza, eterogenei e perfino divergenti. Eppure a me pare di poter rinvenire nella sua ampia e variegata opera una coerenza, o meglio un fil rouge, un motivo conduttore, quello della valorizzazione della diversità, ovvero della peculiarità dell'individuo umano, di contro alle strutture uniformanti, oppressive del potere, o forse meglio dei poteri e dei saperi, dei suoi saperi, delle sue verità uniche e dogmatiche. Un individuo umano, tuttavia, che non coincide affatto con l'io, con il soggetto trascendentale della tradizione filosofica moderna, che Foucault rinomina beffardamente narcisismo trascendentale. E nemmeno si riduce all'inconscio psicoanalitico, quantomeno a quello freudiano, ma che viene progressivamente configurandosi come un processo pratico di ricerca e autocostruzione di sé, un processo che Foucault concettualizza con il termine di soggettivizzazione e alla cui delucidazione dedica gli ultimi suoi studi, senza riuscire a portarla a termine e così lasciandola di fatto in eredità come un compito da svolgere ai suoi successori. Mi sembra abbastanza evidente, in tal senso, che questo fil rouge sia strettamente connesso all'esperienza biografica di Foucault, in particolare a come egli visse la sua omosessualità in un contesto culturale in cui essa gli veniva fatta sentire come un peccato, come una anormalità, una malattia, abbiamo sentito, quando non come un abominio o addirittura un crimine, senza conciò voler minimamente ridurre il contenuto del suo pensiero e il suo valore, il suo grande valore, a questo dato biografico. Sarebbe tanto delirante quanto lo è imputare l'oltretutto presunto pessimismo di Leopardi alla sua malformazione fisica. Non di meno le esigenze didattiche impongono di proporre un inquadramento schematico del pensiero di Foucault, che pertanto può essere suddiviso in tre fasi. Una prima fase, che si può chiamare archeologica, legata allo scavo storico-culturale della genesi della moderna concezione della follia e delle modalità mediche e istituzionali moderne della sua gestione, ma in generale della gestione della malattia. Una seconda fase politica, dedicata allo studio dell'origine delle istituzioni statali, carcerarie repressive e dei saperi e dei meccanismi relazionali che costituiscono il potere come entità diffusa e pervasiva. Una terza fase morale, per così dire, volta alla ricerca della soggettivizzazione attraverso l'analisi della gestione discorsiva della sessualità e più in generale della conoscenza di sé, come stile pratico di vita, dall'antichità alla modernità. Fu uno strutturalista Foucault. Alla fine degli anni Sessanta egli negò fermamente di esserlo. Poco da stupirsene per un intellettuale che, rifiutando la cappa accademica della filosofia, si proponeva come un non filosofo e offriva il suo pensiero come, cito, una cassetta degli attrezzi, cui attingere liberamente per farne gli usi preferiti. Non di meno, fermo restando che tutte le classificazioni sono riduttive e meramente propedeutiche, mi pare che Foucault possa essere considerato strutturalista in quanto condivise due tesi centrali dello strutturalismo. Quella della morte del soggetto, ovvero dell'antiumanismo, e quella complementare del primato, dell'oggettività linguistico-culturale, delle positività, così lui le chiama, cioè delle datità linguistiche, dei fatti discorsivi, delle formazioni discorsive, è la locuzione che Foucault preferisce. D'altra parte, Foucault diverge nettamente dagli altri strutturalisti per il suo rigetto dell'idea della sussistenza di una struttura unica e attemporale e per la sua esaltazione delle differenze, delle segmentazioni, delle diffrazioni e frammentazioni, di quelle che lui chiama soglie e anche faglie, nonché delle trasformazioni diacroniche, benché non secondo un'unica linea temporale, bensì in base a più e divergenti temporalità. Da questa angolatura mi sembra che sia il pensiero di Nietzsche, cui Foucault era affine anche a livello della personalità, quello che maggiormente traspare in filigrana nell'opera di Foucault. Penso non solo al Nietzsche della morte del soggetto, ma anche e soprattutto al Nietzsche della genealogia della morale, più in generale al Nietzsche come analista genealogico del nichilismo, inteso come essenza dello sviluppo storico-culturale della civiltà occidentale dalla Grecia alla fine dell'Ottocento. E penso anche, e ancora di più, al Nietzsche che prospetta la possibilità dell'Ubermensch, del sovrauomo, o meglio, del suo immediato antecedente o precursore, il Freygeist, lo spirito libero. Appunto, la tematica della soggettivizzazione mi pare connessa al modello niciano dello spirito libero, del Freygeist. Bene, si conclude così la prima puntata della serie dedicata al pensiero di Michel Foucault e come sempre vi invito alla prossima, che verterà ovviamente sulla prima fase della ricerca filosofica, della variegata ricerca filosofica di Foucault. Alla prossima puntata.